Musica E su questi luoghi di Agraona, siamo oggi in un paese di Iberia, abbiamo parlato di padrimonio, abbiamo mandato a pelle, tutte le divisi religiosi che si trovano in un comune, parleremo di i confraterni che si chiuso qui, e di noi, di ristorazioni sulle volte, in tassiloghi. Andiamo subito a Adiesa e il paese. Salute. Salute. Allora qui siamo davanti a San Lorenzo. Qui si è stata arrivata, come avevi detto, in 1900. È stata un po' garagnata, intrattenuta l'anno passato. E due, tre anni va, è arrivato veramente un grosso lavoro in Trento. Allora manda a Berendro? Se volete. Qui si è arrivato? 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 Qui si è arrivato, due anni va. E mi è arrivato tutto ciò che chiamano le decor. È stato un grosso lavoro che è stato più di un anno, un anno e mezzo di lavoro, che è stato arrivato. 350.000 euro per pagare tutta questa affare. e mi è arrivato di nuovo tutta l'elettricità. E mi ha raggiato anche ultimamente qui, perché ci si è più l'uomo. Tutto è stato arrivato. Pinture. Tutto rimesso a noi e in Trento. 350.000 euro, hai avuto l'aiuto di finanziare questo lavoro? Ho avuto l'aiuto del Consiglio Generale, ho avuto una subvenzione di 200.000 euro tanto, che è una subvenzione eccezionale, che mi ha accordato il Consiglio Generale Dipartamentale della Corsa del Sud. e dopo è la comunica del Stato, il resto, e poi abbiamo avuto qualche lavoro supplementario, che sono stati finanziati per la colettività. e poi abbiamo avuto il Consiglio Generale di San Lorenzo. Qual è il ruolo della confraterna nel Paese? Il ruolo della confraterna è sicuro di essere presente nel Paese, aiutare ai preti, aiutare in dei canti, in della liturgia, ma non il ruolo sociale, ma io. Perché quando si parla del patrimonio, pensiamo sempre ai petri, ai i ieri, che sono importanti, ma se il patrimonio non c'è mica diente, non c'è mica una confraterna, un associo, una squadra di ente per fare campagne e il Paese, la cultura si perde. Dunque il ruolo della confraterna è di nuovo un ruolo culturale, un ruolo di trasmissione del canto, di trasmissione della lingua, della tradizione. Ecco, la confraterna, possiamo dire, che piglia assai cose sfarente. e la collana di me vedora Allora qui si è una cappella privata dell'Annunziata, ciò li è deporta in suo luogo perché? Voglio portare qui, qui al cappella della famiglia Perez, cioè René Perez, che ci ha da riugna, e oggi qui è una cappella privata, piazza dell'Annunziata, cappella dell'Annunziata, che è una cappella, oggi, che è magnifica. e voglio ringraziare al nome di tutti i Peraci, a Vamia Perez e particolarmente a René Perez, che ci ha permesso, quando noi facciamo il lavoro, a Iija, a Sant'Arento, ci ha prestato, ci ha raggiunto a Zocapeda per fare tutti i mesi, e tutto ciò che ci vuole fare, tutta l'annate del lavoro. Andiamo a controllo? Volentieri. Ma a ii Zai, e più precisamente il frere del monsiere che figure su questo piano, è stato un leggero che mi fanno, e mi 10e di famiglia a occupato di mantiene e di l'entretien desta cap희. Iberi, io e l'occhio di agro Guissimo, una capilla di Sant'Antonio e una piada di Iberi Piada di Iberi, una capilla di Sant'Antonio Sant'Antonio di Padua, 13.1 E mi è arrivato da tutte le capilla Tutto arrivato, elettricità, pintura, tutto il tetto Tutti i zimi, tutto scambiato Tutto nuovo, tutto arrivato a noi E' il tempo, un po' dietro, di arrivare ciò che è da un fuor E' a raggiungere la piazzetta, che si chiama Piazzetta Guerini E' giusto qui accanto, e così tutto sarà messo come l'ho giù Ringraziabbi, mi sono accorto a tutti i ragazzi Così si compie il suo numero di besti luoghi in a Biaia di Iberi Siamo qui davanti a Agapilla Sant'Antonio Ammoist un paese a Giza San Lorenzo E di noi, un Agapilla Briorata